Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, oggi vi invito per unione con mio figlio un passo molto difficile e doloroso. Per unione con mio figlio è un passo molto difficile e doloroso. Vi invito a un completo riconoscimento e la confessione dei peccati, a purificazione. Un cuore impuro non può essere in mio figlio e con mio figlio. Un cuore impuro non può dare frutto dell'amore e dell'unione. Un cuore impuro non può fare le cose giuste e buone. Non può essere esempio dell'amore di Dio a quelli che lo circondano e quelli che non l'hanno ancora conosciuto. Voi figli miei, radunatevi intorno a me pieni di entusiasmo, desideri e speranze. Io prego mio figlio affinché, io prego Dio, caro Dio, affinché nei vostri cuori puliti attraverso lo spirito santo del mio figlio metta la fede nei vostri cuori. Cari figli, ascoltatemi, camminate con me, venite con me. La Madonna ha benedetto tutti noi, tutti gli oggetti portati da noi, in modo particolare tutti i sacerdoti. Mentre andava via, la Madonna ha fatto vedere a Mirjana sulla sua sinistra buio, tipo le tenebre, e da lato destro una croce in una luce dorata. Madonna non ha detto niente a Mirjana, non gli ha dato una spiegazione, però secondo l'opinione di Mirjana è proprio, si tratta di questo cuore impuro e cuore purificato. La traduzione corretta la potrete trovare nel pomeriggio all'ufficio informazioni. Grazie.